A cuore in diretta per ascoltare insieme un'intervista al conduttore Michele Mirabella sul suo nuovo libro Se c'è la salute. Vediamo insieme. Siamo in compagnia di un uomo di grandissima cultura, attore, regista, anche conduttore televisivo Michele Mirabella qui a Napoli per presentare un suo libro quando c'è la salute storie vere o supposte. Grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni di mattina 9. Grazie a voi di avermi invitato. Poi questa è una libreria leggendaria, Feltrinelli di Napoli. Io adoro questo posto perché è una grandissima libreria. Cioè esiste, ha fatto casa una cosa, qui parla una bassa voce e per noi meridionali che siamo abituati a luccare. Questo vuol dire che la libreria incute educazione per il solo fatto di essere una libreria. Quindi sono contento di stare qua. Siamo contenti ed onorati noi di averla qui a Napoli in libreria ma anche nella nostra trasmissione. Stiamo presentando il suo libro. Il titolo in realtà già dice tantissimo ed è questa una tematica della medicina a cui lei è strettamente legato, memorabile, è il suo programma, la sua rubrica Elisir. E oggi invece nel libro lei presenta una sorta di dietro le quinte medico-sanitario. Ma in questo è un libro che raccoglie innumerevoli conversazioni, quelli che io chiamo gli almanacchi della medicina. In realtà non è affatto un libro sulla salute, è un libro di storia e come tale voglio che sia considerato. La storia, diceva Volter, e l'abbiamo messo con Sandro Settimi, il mio collega coautore, diceva Volter, guai, se riducete la storia alla verità la distruggerete. è un paradosso volteriano che io considero illuminante. La storia è fatta di mille congetture, è fatta di supposizioni, è fatta di ipotesi, è fatta di fantasie. Anche quelli hanno contribuito a creare la narrazione della vicenda degli uomini, della straordinaria vicenda di questa creatura. Quindi io, diciamo, per riassumere, ho raccolto in questo libro le congetture sulla storia della medicina che sono innumerevoli, che io ho utilizzato per aggiungere un di più di considerazione da parte dei nostri ascoltatori perché sconfiggessero e sconfiggano l'ipocondria. La ipocondria, tra l'altro, è una malattia del secolo. Alcuni cantanti sembrerebbero esserne, insomma, invasi. C'è sempre stata l'ipocondria, infatti il termine greco. L'ipocondria c'è sempre stata, ha accompagnato l'uomo nella sua vicenda interminabile. Ora siamo nell'antropocene, c'è nell'epoca geologica e planetaria in cui l'uomo è il protagonista della vita di questo pianeta, ma l'uomo è sempre convissuto con le malattie e addirittura quando non sono state sufficienti quelle vere se le inventate. Poi queste non erano vere e proprie invenzioni, qualche volta erano congetture. E infatti adesso che la scienza ha fatto fare enormi passi avanti alla consapevolezza, rimane forse una forma, ci attardiamo con forme impensabili di follia ipocondriaca. Pensi a tutte le sciocchezze che si dicono contro le vaccinazioni, tutte le stupidaggini che si dicono sui cosiddetti farmaci alternativi. Mi fa ridere quando uno dice io uso la medicina alternativa. Alternativa a che? O è medicina o non è. Non ci sono quasi medicine, medicine diverse. Da che? Medicina quella è. Senta, storie vere o supposte, come diceva anche l'epoca, anzi, perché in realtà molti episodi riguardano anche personaggi che hanno fatto la storia, proprio per esemplificare, per far comprendere quanto i problemi di medicina, di salute, possano riguardare persone comune, ma in realtà anche grandissimi personaggi che hanno fatto la storia, come ad esempio Napoleone, che avrebbe subito la disfatta di vaterlo anche a causa di un problema... Il problema medico, diciamo così. Ma oggi siamo in grado di fare a posteriori delle considerazioni di ordine diagnostico. Oggi siamo in grado di dire che l'imperatore Adriano è morto di un infarto o comunque di un logorio del cuore. Oggi siamo in grado di congetturare sulla malattia di Alessandro Magno. Siamo capaci di dire che Carlo Magno è morto di raffreddore. In realtà non è morto di raffreddore, però uno che rimane contuso dopo una caduta in una caccia al cervo è abbandonato perché non se ne accorse nessuno dai suoi cortigiani e passa quasi sei giorni e sette notti o cinque o sei, la storia su questo non è precisa, seminudo sotto un albero all'umido, alla fine pigliano a bronchite. Il clima e anche l'evidente presenza di batteri in quell'ambito ne hanno favorito la di partita. Insomma la storia della medicina è affascinantissima. Di tutte le storie umane se ci pensa è quella che ha lasciato una traccia indelebile. I medici di oggi fanno bene quando lo fanno a studiare da ipocrate in poi. Il giuramento di ipocrate è una forma di filosofia della conoscenza. Diciamo che è la radice degli studi epistemologici, della filosofia della scienza. È lui che si pone per primo il problema in maniera ufficiale e curiale del valore della medicina. Si pone il problema anche dell'audiontologia medico-professionale. No? Quando raccomanda ai medici le regole elementari del comportamento. È un libro interessante, è un libro, un'opera fondamentale. Senta, lo sta accennando anche lei, l'audiontologia e medicina. Quando si parla di medicina in realtà il linguaggio è molto complicato perché da un lato c'è sicuramente la scienza ma dall'altro lato c'è un pubblico ampio a cui far capire certi concetti molte volte difficili. Possiamo dire che da questo punto di vista lei ha un grandissimo punto di forza però come si fa a spiegare in maniera semplice dei temi scientifici molte volte già consolidati i danni ma che sono stati poi messi in discussione anche da una cattiva informazione? Lei fa delle domande lunghissime. Io alla fine avrei la tentazione di dire che sono d'accordo con lei. Una piccola concettura di professione. Se non ci fosse l'inglese avremmo tutti un linguaggio universale della medicina perché parleremo greco e latino ma da quando è arrivato l'inglese dicono una serie di stupidaggini in inglese contaminando il greco che non conoscono più, il latino che non parlano più con un inglese che non parlano ancora. Ecco che quindi il povero paziente si spazientisce e non capisce niente. Poi gli acronimi sono tremendi perché gli acronimi sono quasi sempre dell'inglese e non dell'italiano, del francese o del greco latino. Dunque ci vorrebbe una disciplina che dovrebbero imparare all'università per evitare di camuffare qualche volta dietro definizioni linguistiche complesse una sostanziale ignoranza. Non dei medici per carità ma in generale. Allora tu ti accogli improvvisamente che si parla un inglese approssimativo. Nessuno legge Shakespeare ma tutti pensano di sapere questo inglese alimentare, rozzo e francamente brutto. Mentre gli inglesi stessi, gli americani soprattutto, sono curiosissimi delle dizioni greco latine della vecchia storia della medicina. Questo è il punto. Dovremmo con un grande gesto di umiltà anche riverire. Perché se tu dici cardioaspirina, tu già usi un termine greco. Nessuno sa che l'aspirina era conosciuta non in quanto aspirina ma in quanto acido salicilico, anzi in quanto salicilato. Dai greci che pigliavano le foglie di salice e le maceravano nell'aceto e lenivano le ferite. Lo sanno quelli che dicono no. Quindi io credo che una buona storia della medicina sarebbe da riportare nelle facoltà. Quando ho ricevuto le mie lauree all'onore in farmacia da una volta e in medicina dall'altra, nella produzione accademica che sono stato tenuto a fare, io ho raccomandato questo, di studiarla la storia della medicina come esame dell'università fondamentale, non un complementare per arrotondare la media. Senta, da parte sua tanto sapere, però in televisione, una televisione che nel corso degli anni però è cambiata. Sì, è cambiata la televisione, c'è qualcosa che le piace e che non le piace? Lei deve fare tantissime altre domande. Lo ascolterei volentieri e possiamo stare anche tutto un weekend a parlarne. Com'è cambiata la televisione? Io non sono un grande spettatore, non lo sono mai stato, sono un assiduo spettatore del… io non guardo la televisione, io guardo i programmi, io uso il televisore come usavo i giradischi. Uno non è che ascolta i giradischi, uno ascolta i dischi, uno non è che… io guardo la televisione, io spesso guardo la televisione spenta come una scultura moderna, ma quando la accendo scelgo i programmi e ci sono quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono e non li scelgo. Io lo uso il televisore, come voi usate il computer. L'idea di usare il computer per vedere la televisione la trovo ripugnante, mi fa un po' schifo. Infatti io uso il telefono per telefonare, la radio per ascoltare la radio, la televisione per vedere i programmi. Ogni cosa deve avere una sua dislocazione. Ma io sono antico, non ci faccia caso. Senta, però ho una lunghissima carriera tra teatro, cinema, tv e anche università, perché lei è anche insegnante. Tantissime prospettive, se c'è qualche esperienza che ricorda di più con affetto. E poi, ecco, non sono domande lunghe, ma anche in realtà voglio in qualche modo riunire tante risposte da lei. Lei qui a Napoli ha un ricordo immemorabile anche con Massimo Troisi, perché nella pellicola Ricomincio da 3, classe 1981, sicuramente ci sarà un ricordo che la lega ancora al nostro territorio e al grandissimo Troisi. Sì, Napoli per me è la capitale. Io sono pugliese, dire a me Napoli, io ci ho passato dalla giovinezza, quando lei non era nata, tra Napoli e la costa, le isole, un po' per vacanze, un po' per passione, un po' per amore, un po' per amici. Mio papà era un ufficiale dell'esercito, era un ufficiale superiore, ha comandato una parte della scuola truppe corazzate a Caserta, quindi venivo spesso con papà. Lui adorava Napoli, avevamo tanti amici, ho ancora qualche amico. Insomma, per me Napoli è come sta a casa, ecco, diciamo così. Tant'è che inevitabilmente è arrivata a piazza, già sul corso Umbertio comincio a parlare con un po' di accento napoletano, perché è inevitabile. È inevitabile perché la lingua napoletana è la matrice di tutti i dialetti meridionali, escluso il Leccese, fino a Bari, ecco, diciamo così, a Lucanio non ne parliamo. Quindi è borbonica la mia appartenenza. Senta, siamo a due passi dal Teatro San Carlo. Io so che lei è molto appassionato di teatro, ma anche di musica lirica. Riesce magari il sogno di riunire queste due perle attraverso un'opera registrica, la sua? Ma io faccio il regista d'opera, mi piace farlo, ho diretto una trentina di titoli nella mia carriera e quindi lavorare a San Carlo è come prendere una laurea, un'ennesima la laurea magari. Grazie a Michele Virabera per essere stato con noi.